Il 12 settembre si riapriranno le scuole in Abruzzo, Costanza Cavaliere lei è Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, quali sono le problematiche che vi troverete a rientro a scuola? Le problematiche per un certo verso sono un po' continuative rispetto agli anni precedenti in merito all'organizzazione della sicurezza per il contagio covid e per i tempi scolastici da gestire in un modo che sia flessibile qualora si dovessero presentare delle problematiche anche nel corso di questo anno scolastico. A proposito del risparmio energetico perché si parla di una settimana più corta qual è la situazione? La situazione è che l'ipotesi che sono state avanzate in merito all'organizzazione su cinque giorni settimanali anziché sei sicuramente comporterebbe una riduzione a un possibile risparmio per delle utenze in generale, l'unica cosa è che non è praticabile a un inizio di un anno scolastico in maniera evidente perché il servizio che noi andiamo a gestire è fatto in interazione con altri enti, quindi coloro che sono responsabili del trasporto, delle menze e quant'altro. Quindi una pianificazione, un'organizzazione di questa tipologia che comporti naturalmente cambiamento per quelle scuole che non hanno ancora l'organizzazione su cinque giorni deve essere anticipato almeno, non dico un anno, ma almeno un sei mesi prima della riapertura e ciò non toglie che sia una prospettiva auspicabile. Per quanto riguarda le risorse a disposizione della scuola e il miglioramento che la scuola può avere attraverso queste risorse? Le risorse dei PNRR probabilmente parliamo sono molteplici, soprattutto da un punto di vista sostanziale e fondamentale che è il rifacimento degli edifici che non sono in sicurezza. Sono un problema atavico per la scuola italiana che continuiamo a ribattere anche a seconda delle varie purtroppo emergenze che si sono verificate dai terremoti a cose varie e che hanno messo, hanno pregiudicato effettivamente la messa in sicurezza di un servizio che invece è dovuto su tutto il territorio nazionale. È un elemento basilare a cui rimettere in mano, ma sono basilari anche alcuni servizi che vanno potenziati. C'è una riforma in atto dello 0-6 anni che prevede la frequenza scolastica anche di bambini che hanno un'età inferiore a quella delle frequenze delle scuole dell'infanzia, quindi 0-3 anni da gestire. Ce ne sono altri relativi al potenziamento dei laboratori e c'è anche un aspetto di miglioramento tecnologico già in atto dobbiamo dire perché è stato messo in atto corrispettivamente al periodo emergenziale che abbiamo vissuto, ma che è ancora da implementare. Parliamo di banda larga, parliamo di laboratori che siano vivibili e utilizzabili anche a distanza, perché se è vero che i 5 giorni per il risparmio energetico possono essere utili in tal senso, non dimentichiamoci che in questi anni abbiamo fatto una pratica di didattica a distanza che può essere utile a sopperire a certe carenze che ci sono ancora nell'utilizzo del tempo scuola o anche di determinate attività didattiche che per alcuni alunni, mettiamo anche con patologie eccetera, non possono essere vissute.